Primo weekend di neve sulle montagne biellesi e in molti non si sono voluti far scappare l'occasione salendo ad Europa e in altre zone imbiancate della nostra provincia. Tavole, bob, sci e pelli hanno fatto da protagoniste soprattutto domenica complice la bella giornata di sole. Tantissimi bambini e le famiglie che hanno voluto salutare la prima nevicata a suon di palle di neve discese con lo slittino nel Prato delle Ocche davanti al santuario. Anche la Busancano è stata percorsa da decine di sciatori impazienti di rimettere gli sci ai piedi e scendere dalle vette biellesi. La nevicata della scorsa settimana ha depositato accumuli considerevoli nella conca d'Europa dai 50 cm del santuario ad oltre un metro e mezzo al Camino al Mucrone. Situazione che fa scappare la pazienza su Facebook al presidente delle funivie d'Europa Gianni D'Adamo che descrive il suo stato d'animo a dir poco alterato mettendo sul suo profilo la foto notturna della cesto via del Camino che lascia pensare alla situazione a dir poco nera. Nodo duro da sciogliere questo dato che alle promesse dei politici locali non hanno fatto seguito per ora i fatti. Desolante vedere le ceste dell'impianto ormai fermo immerse nella neve con intorno i commenti amareggiati di appassionati amanti della montagna biellese. Una pessima prova della classe politica che lascia scappare anche quel poco che è il nostro territorio ancora e con esso posti di lavoro, opportunità e soprattutto l'entusiasmo e la passione che tanti finora hanno cercato di testimoniare per trovarsi oggi con le ali spezzate.